Allora, raga, aspettateci. Allora. Nel senso, la regola numero 1 è la regola sbratta in campo, la regola numero 3 è sfonnate da viola. La regola numero 3 è fonnate da viola. Mini sconettezze, ho capito che fai, azzossata, vabbè, ti poti tirare giù le mutanne, vabbè? Non è rotta il cazzo, giocando un giro. Tu scendi, tu scendi. Venti due! Venti due! Oh no! Regale, l'ora numero quattro è Scarpini di Gigi! Grazie Gigi! Oh, le tusche se lo tusche! Pala nostra! Oh, se gioca così! Come se gioca? E' una grande cucina, rega! Venti, il cattore di Vicks! Vanti cazzo, vant'è! Venti, la Vicks, ho fatto il rinforzo! Venti! Venti! Venti, vieni qua! Venti! 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 Dai, riga, conciutto al cane! Venti! 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 Agrobatica! Sì! 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 Sì!